Ciao, ciao, ciao a tutti! Mamma mia quanto siete! Ogni volta è sempre bellissimo aprire la sala sapendo che ci sono tante persone che ci hanno accompagnato in questo viaggio. Oggi volevamo fare tutti insieme questa festa e concepirla proprio così, una festa, infatti vedete i palloncini rossi che ci siamo portati anche durante la campagna elettorale, in realtà non è la festa della chiusura della campagna elettorale come dicevamo prima perché siete tutti invitati alla festa che chiude la campagna con Virginia Merola che sarà il 3 giugno però era in qualche modo un'occasione giusta per raccontarci che cosa abbiamo fatto in questi due mesi di folle campagna elettorale e raccogliere un po' delle energie che ci servono per lo sprint finale perché sappiamo tutti che l'ultima settimana è quella più impegnativa, è quella più difficile, è quella più sfidante ma è quella in cui ognuno di noi deve sentirsi protagonista di una campagna collettiva. Vedete i cubi, non potevano mancare i cubi, anzi ringrazio Stefano che ci aiuterà in questa passeggiata, in questa camminata per raccontare che cosa abbiamo fatto in due mesi di campagna elettorale perché ci siamo ripromessi di rendicontare quello che avremmo fatto durante questo viaggio, questo percorso che abbiamo fatto insieme e da dove siamo partiti? Vediamo un attimo da dove siamo partiti siamo partiti da qui, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, molti di voi c'erano e siamo partiti dal 9 aprile dall'idea di costruire attraverso delle levagne una visione, un'immagine di Bologna, della città che amiamo, della città in cui molti di noi sono nati e molti di noi hanno scelto questa città per vivere, per abitarla e per dare un futuro per i nostri figli. Abbiamo disegnato Bologna la città che scende il futuro insieme a tante persone, abbiamo lavorato in dieci tavoli tematici e abbiamo cominciato ad affrontare quelle che poi sarebbero diventate le cartoline di questo viaggio, accessibilità, innovazione, lavoro, diritti, Europa, avremo modo di parlarne con gli ospiti che già avete visto immagino qui in sale e alcuni altri arriveranno. Ci siamo ripromessi di fare una campagna elettorale collettiva ed è questo il motivo per il quale il primo amaggio che vorrei fare è a tutti i volontari che mi hanno accompagnato in questo viaggio. Vi vedrete sfilare qui, io non vi cito uno a uno perché non vorrei dimenticare nessuno di voi ma sappiate che tutti voi siete stati i protagonisti di questa campagna elettorale, l'avevamo detto, non sarà una campagna in cui ci sarà un singolo ma ci sarà una squadra, come sempre è stato nella tradizione del mio impegno politico, so che può sembrare strano ma chi mi conosce lo sa, sono abbastanza timido da un certo punto di vista e la vera energia, la vera fortuna è stata quella di avere tante persone al mio fianco, vedete Gianna lì che è la gatta di Silvia che è quella che fa la difesa dei santini perché i santini vanno protetti, vanno diffusi, distribuiti e vanno protetti e però è stato veramente un viaggio emozionante, bellissimo, in cui mi sono portato dentro tante storie, tante esperienze ma un modo di fare politica, l'amica Orianna che in sala lo sa, secondo una parola che non è molto usuale in politica, che è la parola gentilezza. Io ho sempre detto che la gentilezza è una forma di forza ed è una forma di una categoria del pensiero e dell'azione politica perché si può fare politica col sorriso, si può fare politica con l'allegria, si può fare politica con la gentilezza e devo dire che ci avevamo ripromessi di fare questa cosa in campagna elettorale, siamo stati un po' sanitari perché i nostri avversari dall'altra parte non sono stati di certo gentili, visto che abbiamo chi ha voluto e chi continua e vuole strumentalizzare la città di Bologna come simbolo per uno scontro ideologico, per creare dei muri che dividono gli italiani dai non italiani, dividono le persone sulla base del censo, del cedo sociale, noi invece vogliamo abbatterli i muri e cercare di fare una città che sia integrata, solidale, giusta e accogliente. Questa è un po' l'idea della campagna collettiva che abbiamo portato avanti e sono contento davvero che tutte queste persone mi abbiano, ciascuno di loro, dato il loro contributo anche a livello di empatia, anche a livello di emozione, anche a livello di entusiasmo. È una campagna in cui abbiamo cercato anche di fare un po' di innovazione.